ben trovati ai telespettatori di cilento channel siamo in compagnia di vito rizzo conduttore del programma eccomi su cilento channel sicuramente lo avrete riconosciuto ma anche giornalista televisivo e oggi è qui con noi per portarvi a conoscenza della seconda edizione del festival incontri festival della teologia che lo scorso anno ha riscosso tantissimo successo ecco vito quest'anno ritorna con quattro appuntamenti il primo parte da castellabate ma a te il microfono per spiegare ai nostri affezionati telespettatori quello che è un po il programma e quale sarà invece il tema di quest'anno diciamo che era doveroso partire da cilento channel per svelare in anteprima quello che è il programma appena ufficializzato lo presentiamo in anteprima anche al convegno diocesano di vallo il convegno pastorale quindi e in contemporanea appunto per i telespettatori cilento channel ci sono queste novità avremo naturalmente per ogni serata la diretta su cilento channel quindi quelli che non potranno seguirci direttamente nelle piazze dei comuni del cilento del parco nazionale del cilento ci potranno seguire da casa ma l'esperienza di piazza è bellissima quindi partiremo il 5 con una giornata anteprima al castello dell'abbate dove presenteremo gli atti del festival dello scorso anno il cui tema è stato la felicità e dove premieremo anche legato al tema di quest'anno che è la vita marina casini che è il presidente nazionale del movimento per la vita poi a partire dal 7 quindi con un giorno di intervallo a partire dal 7 andremo nelle piazze la prima piazza sarà caggiano nel vallo di diano dove affronteremo con la professoressa giuliana albano il tema della vita nell'arte lei una docente della scuola di alta formazione di arte e teologia di napoli e quindi toccherà questo tema naturalmente con la bellezza delle opere artistiche poi avremo la corale diocesana di vallo della lucania che farà il concerto giorno 8 ritorneremo ad ascea dove toccheremo il tema della vita come sacralità della vita e il teologo a cui è affidata la la riflessione è don marcello de maio anche lui docente di teologia morale per il resto la pontificia facoltà teologica dell'italia meridionale giorno dove concludiamo ad agropoli con una partecipazione importante che quella di don luigi maria epicoco un giovane sacerdote teologo docente presso l'università lateranense seguitissimo sui social seguitissimo anche per i suoi libri che edita con le paoline quindi veramente una bella presenza che avremo al festival quest'anno dove parlerà di come cambia la vita con l'incontro con gesù e poi avremo ad agropoli il concerto della corale interparrocchiale di agropoli stella maris quindi anche quest'anno l'idea di legare il momento di riflessione con momenti comunque di spettacolo e poi avremo sempre l'animazione per i bambini perché naturalmente gli adulti potranno seguire un po di più queste riflessioni e i bambini giocheranno sullo stesso tema benissimo quindi quest'anno si è aggiunto anche il vallo di diano con caggiano oltre alle tappe appunto come lo scorso anno di castellabate ascea ed agropoli ma ricordiamo anche che l'ingresso è totalmente gratuito e a fine serata poi ci sarà anche l'animazione dei bambini a cura dell'azione cattolica e quindi invitiamo anche i turisti che magari si trovano in giro per le piazze a passeggiare perché no ecco fermarsi a godere di un momento di un momento di fede di riflessione e magari restare anche per far divertire i propri bambini ma la sfida del festival è quella di portare nelle piazze durante il periodo estivo un momento bello di condivisione che abbia il tema della teologia come sfondo ma teologia vissuta come esperienza di vita quindi è normale farlo con con le famiglie le date segnatele in agenda perché sono il 5 agosto il 7 l'8 e il 9 agosto abbiamo queste date come riferimento perché vorremmo che questo diventasse un appuntamento importante per i cittadini e turisti che vivono nel periodo estivo il Cilento e Vallo di Diano anzi mi preme ringraziare il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano che ha condiviso la bontà di questa iniziativa ha raccolto proprio la sfida che noi abbiamo lanciato di fare un'iniziativa itinerante che coinvolgesse le bellezze del parco quindi un grazie anche a loro per il sostegno e agli sponsor che naturalmente ci aiutano a portare avanti questa iniziativa bene lo start dunque sarà alle ore 21 per chi non potrà ovviamente godere di questa bellissima manifestazione nelle altrettante belle piazze del Cilento potrà tranquillamente seguire il tutto in diretta sul canale Cilento Channel 636 ma anche sulla pagina Facebook Cilento Channel quindi appuntamento al 5 7 8 9 agosto per quanto riguarda la seconda edizione del festival della teologia incontri con Vito Rizzo e tanti ospiti importanti